Oggi ritorno sull'abolizione del contante che io avevo previsto nel 2015, attirandomi grande ironia da parte di tanti perché mi si diceva nel 2015 massifiguri, populista, demagogo e via discorrendo. Oggi sta succedendo e vi voglio leggere di Jens Weidman che è economista, nonché presidente della Bundesbank, la banca centrale tedesca, nonché il membro più influente dell'organizzazione del sistema europeo delle banche centrali e una piccola riflessione, sia la banca centrale europea che è composta dalle banche centrali, tra cui ovviamente la banca centrale tedesca, sia la Bundesbank appunto, guarda caso hanno sede a Francoforte sul meno. Per cui non è che qualcuno cominci a aprire gli occhi rispetto a queste mie osservazioni, non dico niente, dico solo che stranamente la BCE e la banca centrale tedesca hanno sede nella stessa città. Cioè la banca centrale europea e la banca centrale tedesca hanno sede nella stessa città, al punto che io dico che di fatto la banca centrale europea è nata sul modello della banca centrale tedesca. Ebbene Weidman, appunto il presidente di questa banca, dice l'eliminazione delle banconote, diceva, attenzione, l'eliminazione delle banconote di taglio grosso avrebbe, virgolette, effetti distorsivi se la gente capisse che si vuole abolire il contante. Questa frase in realtà andava a commentare una proposta di un altro economista. Chi era? Era il presidente allora della banca centrale europea, tale Mario Draghi. Capite? Ora perché io vi pongo l'attenzione su questo tema? Perché noi stiamo andando ad un mondo che è basato sull'interesse negativo sui depositi. C'è un mondo rovesciato. Ora, quando ci sono interessi negativi sui depositi, dove conviene tenere i soldi? Beh, la gente potrebbe cominciare a pensare che convenga tenerli sotto il materasso. Ma voi capite che se vi aboliscono il contante questo diventa impossibile. Allora si innesca un circolo vizioso per il quale si potrebbe avere, secondo me, un'ulteriore discesa dei tassi negativi sui depositi e invece un aumento sui tassi di, diciamo, di uso delle carte di credito. Perché? Beh, perché finché tu fai circolare una banconota, le banche non hanno un interesse fino a che tu non la ridepositi. Ma se tu utilizzi una carta di credito, ogni volta che la utilizzi, tu in realtà stai creando un interesse che poi si chiamerà commissione sull'uso delle carte di credito. È chiaro che quando si va in un oligopolio o in un monopolio e per legge, per esempio, se il Presidente del Consiglio Italiano creerà l'ennesimo decreto nel quale stabilirà che il contante è fuori legge, voi capite che per legge creeremo un mercato nel cui i tassi sui depositi andranno sempre più giù e invece i tassi sugli usi delle carte di credito, per effetto di una legge di concorrenza che diventerà obbligatoria, andranno sempre più su. Ragionateci, buona economia umanistica.